Se trovo Capitano America il video finisce Grazie sul pago Grazie carino Ragazzi tra l'altro prima di startare effettivamente con la sfida Come posso non ricordarvi di shoppare la skin di Capitano America Che è fighissima sia la skin in sé sia lo scudo Solo e solamente col codice creatore fortu ragazzi 5 lettere 1 garanzia come potete vedere qui fortu Accettate, inseritelo e shoppate solo con il mio codice creatore Detto questo buttiamoci in game Io non gioco a Fortnite da circa una settimana Perché in questo periodo sono giocato da Perescape Ma vabbè ragazzi vediamo se so ancora come si fa Credo sinceramente di no Tra l'altro mi devo riabituare anche con la sensibilità che avevo su Fortnite Anche quella di Perescape era molto molto diversa Anzi quella di Fortnite credo che sia molto più alta di quella che teniamo prima Orrenda notizia questa Però credo che riuscirò a riabituarmi spero Ci vuole solo un po' di impegno ragazzi per ora Allora vediamo un po' Sì ragazzi la sensibilità è veramente altissima Allora io non so quanta gente abbia comprato la skin di Capitan America A me sembra tanta Perché comunque l'ho visto dal codice creatore Dai tutti i dati che ho a disposizione Un po' di gente l'ha comprata Però magari non abbiamo fortuna Riesca a farmi non lo so Un paio di minuti del gioco Io fortunatamente non mi sono voluto neanche lanciare in una zona piena di gente Però sono curioso Sono curioso di sapere come finisce sta cosa Prego prego C'è un euro? No Ma ragazzi tra l'altro vi ricordo assolutamente di seguirmi sul sito Viola Sul mio canale del sito Viola Perché ormai per chi non lo sapesse Sono 5 mesi se non di più Che facciamo live streaming la sera lì Fatelo vi conviene Decisamente Stasera dovremo essere live intorno alle 6 Di solito io le faccio la sera Però dato che stasera non ho disponibilità Le farò verso quell'ora Mi raccomando Magna magna fratelli che fa bene la salute Bel cocco fresco D'altro il cocco ragazzi è pieno di calorie Il cocco fa malissimo Io qua non vedo gente Però no Però è una partita così Qui non c'è un'anima viva No fratelli Questa Questa brutta così No no Dobbiamo andare Dobbiamo andare Dobbiamo cercare Gente che io voglio fightare Voglio mostrare tutta la mia potenza Che ho perso Nel corso di queste 5 giornate Fantastiche Pozze piccole ovviamente Ok 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 Finalmente dovrei aver sentito qualcuno Forse Forse no Le dice Però c'erano dei muri quindi Sento gente di là No scendesse su di me Non ho assolutamente capito da dove Ok no Sono diventato stupido Ah ma è un bot È un bot È un bot Ma non è capitano america Fatemi controllare per sicurezza Però non mi sembra È un bot ragazzi Stanno andando a sinistra e destra Perché ha visto sia me Che un altro nemico No no ok E vabbè E ce ne faremo una ragione No decisamente Un no skin Cioè no un no skin È un default skin Del Non è un Cosa sto dicendo Del pass battaglia vecchio Se non sbaglio Del nuovo No del vecchio Da season 1 Boh Season 1 ovviamente capitolo 2 Io ho paura di incontrare capitano america Ho veramente paura Uno squalo da sotto Che ha roba oro E guarda squaletto Io ti vorrei un attimo eliminare Perché secondo me Tu c'hai roba bella Quindi non ti offendere Ma Credo di eliminarti completamente Ah ma mia la mia assistita Che brutta cosa sta facendo qua Ma se faccio così Ah no Se faccio così non ti fa Oh Andiamo Stai calmo Ah va bene La mia assistita raga Con questi squali Veramente fa un casino Qualcuno Sì 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 Ma mica c'è capitano america Questo no C'è capitano america Ma sono tutti i bot Questo è un altro bot Sì sì Guardate Ma io sta cosa Non la capisco Ma perché Mi sono fatto anche fare danno Dovete dire La persona normale Non l'avrebbe fatto Vabbè Ok La persona normale Credo mi avrebbe massacrato Una OG Va bene Ah ragazzi Pure editare Mamma mia Sto proprio bloccadissimo Mi sento proprio bloccato Cavolo Mi devo decisamente riabituare Scusatemi ma ripeto Ragazzi Ho 5 Forse pure una settimana Che non gioco a fortnite Quindi Nammo Piamoci un attimo pure questo Ok Un po' di vita ce la siamo rifatta Più che altro Questa è una box No Un cesto Va bene Prendo volentieri Ah ok Sto leggermente fuori safe Direi di cominciare ad avvicinarmi Per ora soldati La nostra missione procede Per ora tutto bene Stranamente Non abbiamo incontrato persone pericolose O agenti pericolosi Ma a breve Credo che facciamo una brutta fine Io devo semplicemente Incazzarmi Cosa molto molto probabile Ho pure una jump Bella fresca Che se succede qualcosa Tizio Caio Oh mio dio A questa distanza Io con questa mira Che voglio fa No raga A parte che non è capitano America Quindi va bene Però A questa distanza Se sparo Non riesco a mirare Perché ho la sensibilità troppo alta Mi sono abituato ad aprire escape E vabbè Lo facciamo comunque Ce ne faremo una ragione È sensibilità troppo alta però Un paio di colpi mi ascono sempre Non ha assolutamente capito Dove mi trovo Ma perché in questa lobby Sto gioinando tutti i bot Questo però è un bot giocatore Non è un bot bot Cioè controllato dalla CPU Oh siamo qua Oh siamo qua Guarda mi spiace per te Fratelli Ma non Perché No è un bot È un bot bot Non lo riesco a capire Tra l'altro mi faccio fare sempre danno A prescindere da Che bot sia O quel che è Cioè veramente sono scandaloso Va bene A prova del fatto che non ci ho giocato In questo periodo mi ha sbloccato l'obiettivo Per essermi fatto le pozze piccole Che credo che giocando in realtà Anche ci Giocando anche un minimo Ti dia a prescindere Là c'è un Fucilozzo a pompa che ci può servire Ci stanno i briganti Posso prendere Però ci stanno i briganti Potrei prenderlo comunque Se riesco ad essere veloce Secondo me se faccio una cosa Sneaky sneaky Il fucile a pompa Non lo posso prendere No A partire da cazzo C'era dei briganti Corri fortu Corri forest Non smetterla Do fermarti Se mi arriva un colpo di un brigante No Come cavolo sbrocco Nammo Qua situazione già è complicata Già non so più giocare forte Menti poi La sip dov'è Ah lazy lake Ottima notizia Permesso prego C'è qualcuno Oh c'è una cesta però Bella fresca per noi Ah fresca come il pane De prima mattina Bella Bella per noi Ok Oh ci sono dei cavoli Ma non credo mi serviranno No vabbè dai sono pochi Lasciamo sta Ego mi tengo le pozzette E I pesciolini Lì di qui Non mi ricordo il nome Come cavolo si chiama I flopper Mamma mia ragazzi Sono scandaloso C'è un altro previsionamento Va bene Lama Mamma mia Subito 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 Va vai sali 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 Non mi interessa Sprego tutti i materiali Tanto degli rivigli There is a llama I want a llama Llama my friend Andiamo andiamo Fermiamoci Fermiamoci La flare gun Io non so veramente Quale essere posso utilizzare La flare gun Ma c'è qualcuno che la utilizza Qualcuno di voi la usa Come un'arma seria Cioè sono curioso Che utilizzi si possono fare Della flare gun Illuminatemi Quanto danno fa E' utile Cioè perché Sono un po' confuso Al riguardo Questo è un giocatore normale Sì sì No 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 Sì sì No No sì No Ma com'è possibile Che non ho incontrato Ancora nessun capitano America Perché sto in una lobby di bot Il gioco ha capito Che non gioco da 5 giorni Ha voluto fare un po' Il gentile Non ho capito Andiamo Mi dovrebbe dare Un'altra giamperina Balla fresca Vabbè Voleva darmi di meglio Ma ci accontenteremo Fortunatamente quel tipo Aveva già delle pozze piccole Di suo Non so C'è qualcosa che non va In questa lobby Cioè Boh Cioè non possono essere Giocatori Quelli che ho incontrato Sono troppo scarsi Cioè dai Nega a un certo punto La gente è smessa di Un capitano America No E' un bot E' un altro bot E' un altro noskin E' un altro noskin E' un altro noskin Perché siete così strani Boh Non lo so Ma non è possibile Cioè Vabbè Cioè devo fare un altro video Cioè devo fare un'altra partita Praticamente dopo questo Ho capito bene Si trovano capitano America Se veramente uno degli ultimi quattro Oltre a me Capitano America Veramente c'è 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 da ridere tanto C'è da ridere tanto Io già ho visto l'altro Là sulla struttura Che era oro Era un tizio dorato Quindi non può essere Capitano America Ma c'è un muro invisibile a destra Ragazzi Non mi fa andare sulla destra Come se ci fosse un muro invisibile Ma perché Oh No 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 Non ti puoi curare Che cosa sto facendo Vabbè sono diventato stupido ragazzi Sono diventato ufficialmente stupido Non so più giocare a Fortnite Ok Va bene Non so chi sto incontrando Non so perché è tutto così strano Ma io credo che non farò domande Un 1 vs 3 Va bene Elicottero Si va a prendere da privigionamento? Quasi quasi mi sarei tenuto l'augico Lo zoom Non è che facesse tanta differenza Deve essere sincero Vabbè Facciamo sta stupidata Secondo me è un po' una stupidata E' Capitano America? Sembrerebbe di no Mica è Capitano America Non mi pare fosse Capitano America Sinceramente La skin non credo fosse quella Ho il dubbio Ho un piccolissimo dubbio Ma E' Del 10% Sul 90% Che non fosse Capitano America Smirata Scherzavo Era una battuta ragazzi Scherzavo Non è vero Non è un tizio serio Questo cos'è? C'è un tizio? Che cosa interessante L'avevo sentito subito Vabbè E concludiamola Come l'abbiamo iniziata Ma la mamma mia Pensavo fosse Capitano America Ok Io non so in che lobby Mi hai joinato E perché mi ha fatto fare questa cosa Ma vabbè Eh ragazzi Continuiamo Per ora Capitano America Non l'abbiamo incontrato Ok Vediamo Vediamo Proviamo Ok Allora Questa volta andrà bene C'è male Per il video Però bene Comunque Cerchiamo un'altra skin Di Capitano America Io ripeto ragazzi Io mi aspettavo che scendendo Avrei trovato tipo Non lo so L'esercito degli Avengers Formando da Capitano America Capito come Invece no Cioè in maniera strana Mi sono stupito del fatto che Cioè effettivamente Io non ho trovato ancora Ancora nessuno Con la skin di Capitano America Questa cosa È folle È un'intera partita Poi ho fatto anche altri tentativi Eppure niente Capitano America Ragazzi Non lo so Andiamo sopra Vediamo se sto tipo Sulla destra Nascosto in questo stanzino Ce l'ha Capitano America È lui Sì No Vabbè Va bene lo stesso Eppure niente Capitano America